Cuore mio, ma come sei contento? No, vabbè, mi guarda, mi stai dando una felicità pazzesca. C'è veramente, c'è... che ti devo dire? C'è dei messaggi proprio strepitosi, cioè messaggi proprio bellissimi. Questa tua contentezza, questa tua voglia proprio di vivere, di dire che io devo vivere, io devo, cioè è bellissimo cuore mio, è bellissimo. Non puoi capire, anzi puoi capire perché tu mi conosci, quanto sono estremamente felice di questo tuo stato d'animo. E' pazzesco, pazzesco. Sono veramente ipercontento. Mi metterai a saltare di gioia, di... Cioè cuore mio, ma come mi fai contento? Come mi fai contento? Hai visto cuore mio, cioè per farti capire, vedi? Stavo riflettendo in questo momento, le piccolissime cose, cioè il vedere, il sentire più che altro, più che vedere, un fratello così pieno di gioia, pieno di felicità, pieno di tutto. Cioè è il più grande dono che tu possa farmi, cuore, cioè è pazzesco, è pazzesco. Non sto più nella pe... mi vengono i brividi a leggere quel messaggio. E va bene, dai. E va bene, ma il frullato però non te lo far fare con il latte. Per forza con il latte si fa il frullato, ma si può fare diversamente. Magari, che ne so, con il succo, qualcosa del genere. Eh sì, un frullato diverso, un frullato più fresco. Dai, 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 dai. Dai, che adesso ti farai la doccia da solo. E dai, che mi aspetterai in piedi dietro la finestra. E dai. So contento, cuore, so contento. Che ti devo dire, fratello mio, è la più grandezza che tu potessi darmi. Va bene. Vado a farmi un caffè. Le sigarette le ho comprate stamattina, non vi preoccupate. Ce le ho, ce le ho, ce le ho. Va bene? Beh, cuore mio, mi raccomando. Ci sentiamo dopo. Continuiamo sempre su questa... su questa strada. È una strada che ci porta alla felicità, è una strada che ci porta alla guarigione, è una strada che ci porta a tutto quello che abbiamo sempre desiderato. Ciao, cuore mio, ciao. E un abbraccio forte. Questo è sempre qua dentro, sta sempre mio fratello, ricordati. Ciao, cuore mio.